Mi dicevano prima che stasera è campo gara, qua bisogna stare attenti, ma io ve l'ho detto perché ve l'ho detto, perché noi siamo bravi, sì sarà un po' più costata. Sì, perché con il giornale non lo facciamo assolutamente. Sì, perché con il giornale non lo facciamo assolutamente. Sì, perché con il giorno, domani faceremo la premiazione, c'è uno degli astigiani che vince, sperando di avere una nuova medaglia. Una 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 medaglia.